Buongiorno a tutti i curiosi del Giovedì, eccoci qui con una nuova puntata della Finice Curiosa. Oggi sveleremo l'enigma del nome della nostra città, l'enigma del nome di Milano. Perché Milano si chiama proprio così? La leggenda vuole che il fondatore di Milano fu il Celta Belloveso che nel VI secolo a.C. attraversò le Alpi e il territorio degli Eudi per arrivare nella Piaduna Padana e qui costruire una nuova città, proprio nel luogo che gli era stato indicato in sogno dalla dea Belisama. Quando arrivò sul luogo, Belloveso, vide una scrofa di cinghiale. Era una scrofa di cinghiale molto particolare, che aveva la peculiarità di avere il pelo molto lungo sulla parte anteriore del corpo. Decise quindi di chiamarla Scrofa Semilanuta. Proprio dalla presenza di questa scrofa deriva il nome della città. Belloveso, infatti, decise di chiamare la città Mediolanum, cioè Mediolanum Semilanuta. L'antica leggenda di Belloveso rimane traccia ancora oggi nella nostra città, in quanto una scrofa Semilanuta si può osservare nel cortile interno di Palazzo Marino, ma anche e soprattutto in Piazza Mercanti. Qui, infatti, su un capitello del Palazzo della Ragione, si trova un basso rilievo raffigurante proprio la scrofa Semilanuta, il famoso animale al cui nome la città di Milano deve appunto il suo nome. Se vi capita di andare ad osservare la scrofa che decora il Palazzo della Ragione, non perdete l'occasione di sperimentare un curioso gioco di eco. Il Palazzo, infatti, è composto da un porticato che è aperto su tutti i lati da grossi archi. Cercando due colonne con un foro, disposte obliquamente fra loro, sarà possibile parlare attraverso il foro ed essere sentiti in prossimità dell'altra colonna. In questo modo sperimenterete un singolare effetto acustico che durante il Medioevo era utilizzato dai mercanti per parlare fra loro senza farsi udire dagli altri presenti.